Come state? Un saluto ben ritrovati, vi invito come sempre a iscrivervi qui sul logo di Milanello se non lo avete ancora fatto, siamo a 7, 8, 9 iscritti circa dagli 87.700 Forza forza ragazzi, iscrivetevi è gratuito, maggior ragione se siete già venuti da queste parti e siete tornati significa che vi siete trovati bene Lasciate un bel like, commentatevi numerosi con il vostro punto di vista Questa mattina ho risposto alle vostre domande con la consueta rubrica La più scopaziazco piazzata di Youtube Milanello risponde e ho dato anche indicazioni in particolare su due profili che Moncada e il suo staff stanno seguendo con molta attenzione in Italia Vi rimando a quello, ho parlato anche di Aubameyang, ho risposto alle vostre domande su Leao, sul possibile sostituto, su Rebis, sui cetrocampizi insomma tanti 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 temi In questo video andiamo però più sull'attualità di Milanello ricordando che noi adesso abbiamo tre partite molto importanti La prima contro l'Atalanta domenica sera che forse vi racconterò qui su Youtube con la mia cronaca forse Seconda partita con la Fiorentina e poi la partita più importante del mese, quella contro il Tottenham Vedendo ieri insomma l'Ipsia City 1-1 non sarebbe male passasse l'Ipsia e poi la partita tra Porto e Inter non mi ha impressionato il Porto sinceramente l'Inter ha vinto anche sfruttando la superiorità numerica non vorrei mai qualora il Milan passasse speriamo, incrociamo le dita, facciamo tutti gli scongiuri tanto non sono inquadrato non vorrei comunque mai un doppio derby non per paura ma perché sarebbe troppo stressante troppo, troppo notti insonni un doppio derby europeo paragonato alla Supercoppa è qualcosa di carico all'elesima potenza quindi personalmente no ieri abbiamo gioito e non poco per il recupero il rientro di Mignan vederlo poi sui social è bello è bello perché quando lo vedi sui social con i guantoni che si allena ho visto anche delle immagini dell'allenamento che para sta iniziando a toccare con mano sul recupero che sarà un recupero sarà un rientro straordinario proprio perché insomma Mignan l'abbiamo detto è un giocatore fondamentale per il Milan è troppo forte è un top player quindi da quel punto di vista siamo contenti c'è però il rovescio della medaglia che abbiamo il dovere di analizzare e che non è piacevole prima però vorrei farvi vedere la maglietta che giocherà giovedì eccola qui sulla community l'ho pubblicata ieri con scritto pareri e questa qui piano piano scendo sarà questa la maglia con cui giochiamo domenica quindi il logo oro le scritte oro ovviamente lo scudetto non è oro e quella fantasia un po' particolare pareri punto di domanda ve la faccio vedere fino alla fine avete commentato quasi 200 personalmente non mi intriga parecchio non è questo il rovescio della medaglia intendiamoci personalmente non mi intriga un granché mi rendo conto che però che per questione di marketing è un'altra maglia che venderai può avere il suo significato io sono per il vintage io tornerei a lecare vecchie maglie strisce semplici rosso nero quella che mi piace più di tutte e che ho anche in una riproduzione diceva è quella del centenario con le righe sottili si può lavorare magari per il prossimo anno con il logo così sicuramente ci sono delle idee le ho già intraviste questa la prendiamo sperando che non porti sfortuna come è successo lo scorso anno con quella che abbiamo utilizzato con il Bologna quella con tutta la parte alta da imbianchino o imbiancata questa è la curiosità che divide molto vediamo però il rovescio della medaglia ripeto contentissimi per Mignan tra l'altro Mignan rappresenta in questo momento una grande tentazione di Pioli che ha il il semaforo verde anche dallo staff cioè lui Pioli può decidere se schierarlo domenico oppure no potrebbe giocare titolare domenica mi aspetto quanto meno una convocazione non credo che se dovesse giocare prenderebbe il rischio se gioca è pronto lui comunque è in gruppo completamente da ieri in parte già da un po' di giorni se gioca rientra San Siro contro l'Atalanta penso tutto esaurito sarebbe una bella cornice così che ha modo di scaldare le mani con la Fiorentina a giocare un po' più regime con il Tottenham a messere sul pezzo anche se lo scorso anno quando era rientrato era stato subito performante va detto che il periodo era molto più ridotto c'è però il rovescio della medaglia purtroppo sapete che noi raccontiamo tutto nel bene e nel male riflettiamo insieme a voce alta e dobbiamo purtroppo analizzare il caso Ben Nasser giocatore altrettanto forte per quanto mi riguarda forse è il giocatore più determinante nel Milan quando manca Ben Nasser lo senti anche se noi ultimamente siamo stati bravi comunque ad arrivare la vittoria nelle ultime tre partite l'assenza contro il centrocampo dell'Atalanta secondo me si farà sentire purtroppo la notizia la notizia che però con ogni probabilità salterà anche la gara con l'Atalanta dà grande dispiacere e anche preoccupazione certifica ulteriormente un problema evidente di gestione delle infortuni ora Ben Nasser non gioca una partita dal 24 gennaio 24 gennaio quindi esattamente un mese si era fatto male il 28 alla vigilia della gara con il sassuolo che lui non poteva giocare perché diffidato insomma di ammunizioni quindi ha dovuto scontare la squalifica la fregatura che si fa male tirando le punizioni allenamento finito perché gli è stato chiesto questo in un momento in cui le cose andavano male si è cercato di mettere tutti un po' più sotto col lavoro qualche giorno dopo martedì ci viene detto dal Milan lesione di lieve entità questo testuale senza modificare nulla lesione di lieve entità con dunque un'indicazione che potrebbe riportarlo in campo dopo due settimane Salta Sassuolo era comunque squalificato salta l'Inter si diceva forse gioca col Torino forse in panchina col Toro era il 10 col Toro non va in panchina si allena però in gruppo domenica 12 domenica 12 oggi siamo a giovedì 23 per essere quantomeno disponibile con il Tottenham se ti alleni in gruppo sei clinicamente guarito ed era il 12 il 13 non si allena in gruppo il 14 non è presente salta allora la gara contro il Tottenham quando Pioli aveva detto conto di averlo per la Champions poi forse Monza salta la gara col Monza Pioli dice spero di averlo per la gara con l'Atalanta a questo punto sembra improbabile averlo con l'Atalanta tradotto lui rientrerà poi sabato 4 dopo 5 settimane dall'infortunio che era una lieve entità ora delle due l'una poi Benasser magari ha bisogno di riatretizzarsi meglio rispetto ad altri deve essere proprio sicuro al 100% ma delle due l'una o è stato gestito male e quindi ha avuto una ricaduta perché se ti alleni in gruppo il 12 poi in gruppo ci devi stare oppure oppure non lo so delle due l'una secondo me c'è una e non c'è l'altra nel senso che non vedo molte interpretazioni poi sapete che quest'anno Milan comunica diversamente anche un po' sugli infortuni su Megnano abbiamo visto però l'assenza di Benasser per 5 settimane è un'assenza troppo lunga rispetto alla lesione di lieve entità che sono 10-15 giorni questo purtroppo non ci pone dubbi su Benasser ma sulla gestione degli infortuni da parte del nostro staff io sinceramente non vedo mai uno che rientra prima nel previsto tu dici vabbè non rischiamolo va bene da altre parti succede ma da noi un problema diventa un problema di un mese e passa ricordo anche Cruni ci ricordo Messias ricorderete si era fatto male aveva saltato la gara con la Fiorentina pre-sosta si era detto precauzionale Messias l'abbiamo trovato dopo un bel po' e c'era di mezzo pure la sosta quindi capisco che non il gatto che si morde la coda perché se tu lo fai rientrare prima magari si fa male apriti cielo però in questo caso per una lieve lesione secondo me non esiste che sta fuori 5 settimane anche perché doveva rientrare forse col Toro poi col Tottenham poi col Monza poi con l'Atalanta e rientra con la Fiorentina poi un Ben Nasser firmo 5 settimane deve ritrovare un po' anche la condizione per questo sarebbe stato molto utile riaverlo col Monza e se non col Monza almeno con l'Atalanta vediamo i prossimi allenamenti però quello che arriva da Milanello ci frena molto purtroppo sul possibile impiego o recupero per la gara con l'Atalanta ripeto al di là del caso io lo allargo cioè rifletto su una gestione degli infortuni e torno a battere su questo tasto perché non si deve farlo passare così come massi tanto il mercato aggiunge giocatori gli infortuni tolgono giocatori il mercato ha una squadra mercato gli infortuni deve avere una squadra infortuni adesso abbiamo aggiunto anche questo luminare dei muscoli però i benefici non è che si stiano vedendo noi abbiamo sempre fuori i propri giocatori Calabria pure lui che si è chiamato fuori senza neanche aver giocato se vai a vedere gli altri la Juve magari anche la Juve ha avuto problemi l'Inter al massimo ne ha fuori uno due noi abbiamo avuto costantemente 5-6 giocatori e non solo quest'anno anche gli anni scorsi per questo dico ragazzi a furia di stancarvi e di stancarmi il problema infortuni in estate deve essere risolto una volta per tutte infortuni prevenzione gestione post infortunio quella di Ben Nasser è una cosa che che penalizza il Milan perché non avere Ben Nasser per 5 settimane per una lieve lesione è penalizzante converrete con me che Ben Nasser è un giocatore top del Milan ma fosse stato anche qualcun altro ci sarebbe stato comunque qualcosa di di strano nella gestione ripeto lesioni di lieve è il whatsapp che ci aveva mandato il Milan lieve entità 5 settimane pensa se fosse stata media o importante entità stava fuori 2 o 3 mesi quindi ragazzi uniamoci tutti condividete questo video sui vostri social il problema infortuni deve essere la nostra mission superare una volta per tutti il problema infortuni non so se cambiando procedure sistematologia staff interpreti figure questo non lo so non è di mia competenza ma da appassionato da detto ai lavori che segue il Milan anche per lavoro io dico alzò un ditino il problema infortuni va risolto siete d'accordo credo spero di sì peccato davvero per Ben Nasser perché stiamo andando avanti senza un giocatore che non ha sostituti il rosa per caratteristiche ditemi che cosa ne pensate vi rimando al video di questo oggi ci tengo lo vediate iscrivetevi qui mi raccomando siete dei cuori rossoneri grandi cuori rossoneri iscrivetevi è gratuito lasciate un bel like e commentate numerosi qui sotto con il vostro punto di vista la maglia che dite a me non è che convinca molto io sono più per il vintage un abbraccio grazie a tutti